Interpoma 2014, aggregazione e coordinamento della produzione sono due elementi importanti del sistema dei produttori ortofrutticoli del Trentino. Chiediamo un commento su questi temi a Alessandro Dal Piazza di Appot, che è l'associazione dei produttori ortofrutticoli del Trentino. Il tema è quanto mai attuale, diciamo che noi abbiamo fatto un po' la nostra professione, cercare tutti i giorni di costruire, costruire, mettere assieme qualche pezzettino, aggregare. Se diamo un occhio dietro di me ci sono due parole fondamentali oggi che sono ricerca ed innovazione. Quanto più il sistema è coordinato, quanto più il sistema può crescere dal punto di vista cooperativo, tanto più sarà efficace nel creare innovazione attraverso la ricerca. Direi che questo è un dato fondamentale per rendere professionale la nostra vita e anche solida la competitività del sistema. Innovazione può essere o deve essere al servizio della sostenibilità delle produzioni? La sostenibilità, lei sa, lo sappiamo tutti, è un concetto ampio. Deve essere al servizio della sostenibilità ambientale, territoriale, ma non dimentichiamoci anche della vita dei 16.000 produttori di questa regione, frutticola intende, e anche, lo ricordo da un po' di tempo, dei 4.500 dipendenti che vivono della solidità del sistema frutticolo regionale. Grazie al dottor Dal Piazza e auguriamo una buona continuazione di Interpoma 2014. Grazie al dottor Dal Piazza e auguriamo una buona continuazione di Interpoma 2014.